E tu cosa ne pensi della partita Luca? C'è modo e modo per ottenere una vittoria, farlo giocando bene è importante soprattutto per l'allenatore Solo pochi secondi ancora di collegamento, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca Un onore per me, saluto e ringrazio il pubblico da casa Grazie 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 Grazie